Buongiorno da FT Online, vi ricordo come sempre il modo con cui potete sostenere il nostro canale YouTube, sia iscrivendovi al canale, sia condividendolo con i vostri contatti nel caso i contenuti che vedete siano interessanti per voi e anche cliccando sul tasto grazie. Oggi la borsa è sostanzialmente ferma, vediamo che la candela odierna è contenuta all'interno di quella di ieri, i massimi di ieri e di oggi sono a contatto con questa curva verde che è la media mobile esponenziale a 50 giorni, passa intorno ai 24.360 punti, come avevamo già detto ieri, sicuramente positivo è il fatto che i prezzi stiano mettendo sotto pressione la linea di tendenza che parte dal massimo di fine marzo, ma la mancata accelerazione alla rottura della linea non permette per il momento di confermare il segnale di forza, quindi bisogna rimanere ancora in attesa prima di avere una conferma positiva, ieri la borsa americana è salita con decisione, però oggi se guardiamo l'ultima candela che fa riferimento al seduto odierna dell'S&P 500, c'è un parziale ritracciamento del rialzo di ieri, potrebbe accadere quello che era già accaduto nella seduta precedente, cioè dopo una forte candela rialzista c'è stata una pausa e poi un nuovo massimo, quindi diciamo che per adesso l'idea è che si possa ripetere questo tipo di percorso, per adesso fino a che rimaniamo al di sopra dei massimi di mercoledì che più o meno coincidono con il 50% di ritracciamento della candela di ieri, direi che non ci sono rischi di assistere ad una evoluzione negativa più pesante, sotto quei livelli invece l'indice dimostrebbe di aver già perso la spinta rialzista. Oggi ci occupiamo di due temi, per quello che riguarda il video di libero accesso andiamo a guardare questi tre titoli, Brembo, Biperbanca e Enel per quali mi è stato chiesto un giudizio e invece per quello che riguarda la versione del video riservata agli utenti Patreon che ci seguono sul canale Patreon tramite FTA online andremo ad approfondire il tema della cibersicurezza, andremo a guardare tre titoli, due italiani e un americano che fanno parte di questo settore e due ETF che si trovano anche sul mercato italiano che cercano di replicare l'andamento del comparto. Volevo guardare questi tre titoli del mercato italiano nel tentativo di chiarire l'aspetto delle linee di tendenza e dei canali. Molto spesso infatti nelle analisi citiamo questi riferimenti grafici, però poi quando ci si trova a doverli disegnare in autonomia ci sono sempre dei dubbi. Quello che dovete immaginare è sempre di rispondere a una domanda base che è quella del perché tracciamo questi elementi. Di solito con l'analisi tecnica diciamo che è una tendenza ribassista ha la propensione a mantenersi in atto fino a che non emergono segnali contrari. Quando emergono questi segnali contrari è il momento di mutare la propria operatività, quindi se sono su un trend rialzista e ho comprato magari di andare a chiudere la mia posizione, se sono su una tendenza ribassista e non ho posizione in mano magari nel momento in cui iniziano ad esserci segnali di inversione vuol dire che potrebbe essere il momento di comprare, del resto l'utilità dell'analisi tecnica è riconosciuta soprattutto per quello che riguarda il timing ed intervento. Nel caso io abbia una posizione al rialzo, quello che mi interessa quindi è andare a evidenziare un segnale di debolezza che mi suggerisca di uscire dalla posizione. Ci sono molti modi per fare questo, uno di questi modi è ad esempio la media mobile, siamo abituati a considerare la media mobile a sfarenziare da 50 giorni ad esempio come un elemento che ci fornisce indicazioni sulla condizione del trend in medio termine, quando i prezzi tagliano dall'alto verso il basso la media abbiamo un'indicazione di perdita di forza della tendenza, la stessa cosa però la possiamo ricavare anche utilizzando le linee di tendenza e o i canali. In questa porzione di grafico quando eravamo su una tendenza rialzista avevamo la possibilità di tracciare a un certo punto una linea di tendenza che passava per i due minimi che il mercato aveva lasciato alle sue spalle, quando parlo di minimi intendo proprio tutto l'elemento che si disegna nel corso del time frame che stiamo guardando, in questo caso sono candele giornaliere, quindi vado a considerare proprio i minimi della seduta non i livelli di chiusura e parlo di un nuovo minimo quando c'è stato il ritracciamento che ha superato almeno il primo dei ritracciamenti Fibonacci di un movimento, qui vedete che questo minimo del 26 novembre è arrivato sul 50% di retracement, ovviamente per tracciare una linea di tendenza ho bisogno di due punti, questi sono i due punti che mi servono, quindi da questo momento in poi ho la possibilità di tracciare, nel momento in cui i prezzi iniziano a salire, una linea di tendenza che mi servirà poi per fare valutazioni sul futuro, quindi questa è la mia trendline dal momento in cui la traccio in poi, questo è il minimo, dal momento in cui la traccio in poi posso fare delle considerazioni su quello che è l'andamento futuro dei prezzi, se le quotazioni scendono al di sotto della linea di tendenza, come abbiamo già detto anche nel caso della media mobile, quindi taglio la linea di tendenza dall'alto verso il basso avrò una indicazione di debolezza, in questo caso ci sono state due indicazioni di questo tipo in successione, prima il taglio della media, poi il taglio della linea di tendenza, quindi si è evidenziata effettivamente una situazione di cambiamento della tendenza. La linea di tendenza può essere la base per costruire un canale, se dalla linea di tendenza traccio una parallela che passa per il punto più distante, il punto verticale più distante rispetto ai due punti che servono alla costruzione della linea, quindi in questo caso si trattava di questo, se andiamo a tracciare una linea verticale tra questo punto e la linea di tendenza di base, vedete tutti gli altri punti che sono tra i due che mi hanno permesso di tracciare la linea di tendenza di base, sono meno distanti rispetto a questo dalla linea stessa, quindi questo è il punto sul quale io vado a tracciare la linea parallela e il canale mi serve perché nel momento in cui c'è la violazione della base del canale, oltre ad avere un segnale di forza o anche un'indicazione di quello che potrebbe essere il target del movimento, prendo semplicemente l'ampiezza del canale, la proietto dal punto di rottura e un'idea di quello che potrebbe essere il primo obiettivo del movimento che si sta sviluppando, quindi in questo caso era un obiettivo intermedio rispetto a quello che poi è stato il movimento completo. Attualmente quindi la domanda che mi viene da porre è abbiamo una tendenza crescente che parte dai minimi di marzo nel caso di Brembo, ho due minimi che si sono evidenziati sul grafico, dopo la creazione del secondo minimo e quando i prezzi hanno iniziato il loro rimbalzo posso tracciare una linea di tendenza che mi serve per rispondere alla mia domanda che cosa potrebbe essere che mi dà un'indicazione di cambiamento della tendenza positiva. Una indicazione in questo senso potrebbe venire dal taglio al ribasso della linea che unisce i due minimi. Vi ricordo sempre che ovviamente la linea ha una validità dal momento in cui la tracciamo in poi, quindi inizia a darci delle indicazioni da questo momento in poi, adesso i prezzi si sono allontanati molto dalla linea di tendenza, sono però arrivati sulla parallela della linea stessa, quindi anche in questo caso è possibile tracciare un canale e sono arrivati appunto su questa linea che possiamo definire una linea di resistenza. È ovviamente interessante combinare vari aspetti dell'analisi, ad esempio qui abbiamo avuto una fase negativa, poi un rimbalzo che si è fermato appunto sul lato alto del canale, è interessante vedere se quel massimo che è stato toccato ieri dai prezzi coincide o no con qualche livello di ritracciamento, vediamo che tra il 50 e il 61,8% di ritracciamento e in quest'area si colloca anche questo evidente gap ribassista, quindi tra 11,20 e 11,40 c'è una forte area di resistenza che ovviamente non vuol dire che non verrà superata, ma è un'indicazione di un invito alla prudenza perché i prezzi su quei livelli potrebbero rallentare un segnale di debolezza in base a quello che abbiamo disegnato fino adesso, verrebbe solo con la violazione della base di questo canale. Vi ricordo che quando abbiamo i prezzi che si muovono all'interno di un canale molto spesso siamo in presenza di una fase correttiva che può assumere il nome di un rettangolo nel caso che la fase all'interno del canale sia laterale come abbiamo visto in questo momento, in questa fase, oppure può avere il nome di flag, ovvero sia di bandiera quando il canale ha un'inclinazione positiva o negativa. Nel caso del flag si parla di una figura che compare quando i prezzi correggono la tendenza precedente senza invertirla, qui abbiamo una conferma in questo senso perché per adesso il rimbalzo si è fermato tra il 50 e il 61,8% del movimento precedente, quindi sicuramente molto interessante il rialzo che c'è stato nelle ultime sedute, ma per adesso non è riuscito a cambiare quello che è la tendenza di fondo che rimane orientata al ribasso, anzi siamo arrivati appunto su una resistenza molto significativa attorno alla quale secondo me avrebbe senso smobilizzare eventuali posizioni di rialzo che fossero state aperte in precedenza. Se poi dovessero salire di sopra di alle 11.40 si potrebbe pensare a riaprirle. È una cosa utile e anche abbastanza saggia quando si va a studiare un grafico partire da lontano, nel senso che ci possono essere delle linee tendenza o delle situazioni, magari delle figure grafiche particolari che si delineano sul grafico di lungo termine, quindi prima di concentrarci sull'orizzonte temporale che ci interessa, che di solito è il breve medio termine, si possono fare degli studi anche sul lungo, nel caso ci siano degli elementi che vengono ad essere interessanti nella proiezione dell'orizzonte temporale che ci interessa. Qui ad esempio c'è questa linea di tendenza, per adesso è abbastanza lontana dai prezzi, ma se le quotazioni dovessero scendere di sotto della base del flag diventerebbe un possibile target per il movimento di ribasso. Andiamo a fare le stesse considerazioni su Biperbanca, anche in questo caso partiamo più da lontano, vediamo come si è mosso il titolo nel corso degli ultimi anni, abbiamo una linea di tendenza abbastanza evidente che contiene i prezzi dai massimi del 2017, per adesso è molto lontano dalle quotazioni attuali, quindi non è particolarmente rilevante, possiamo tracciare un canale, quindi tracciamo una parallela e la facciamo passare dal punto più distante che c'è rispetto alla linea di tendenza superiore, in questo caso la base del canale è stata ampiamente violata per lungo periodo di tempo, quindi il fatto che poi i prezzi ci siano tornati al di sopra è interessante fino a un certo punto, nel senso che questo canale probabilmente ha perso la sua validità, adesso bisognerebbe disegnarne uno con una inclinazione diversa. Sicuramente una linea di tendenza che si può disegnare, che potrebbe dimostrarsi importante nel prossimo futuro è questa, se le quotazioni dovessero arrivare in prossimità di questa trend line che passa intorno ai 2,10€, potrebbe dimostrarsi una resistenza rilevante, tra l'altro notiamo che quella linea di tendenza più o meno coincide con la parte alta di questa fase laterale. Nel rimbalzo che abbiamo visto dai minimi del 7 di marzo, anche qui si può tracciare una trend line, come sempre teniamo in considerazione tutta l'estensione di prezzo del singolo periodo, quindi partiamo dai minimi e puntiamo alla linea di tendenza sui minimi successivi, anche qui possiamo tracciare una parallela dal punto più distante del grafico rispetto alla nostra trend line, quindi questa è la linea parallela e la resistenza fornita dal lato alto del canale si posiziona intorno a 1,87-1,88, quindi se il prezzo dovesse arrivare su quei livelli ci sarebbe un rischio di un'evoluzione negativa. Ci sono linee di tendenza che si dimostrano importanti e che non sono quelle canoniche che si tracciano dal punto iniziale di un movimento e dal primo minimo, dal primo massimo successivo, sono delle linee che si riconoscono con facilità se si ha l'occhio un po' allenato, qui ad esempio avevamo un testa spalle che si stava formando, questa è la prima spalla, questa è la testa, questa è la seconda spalla, questa è la linea di base del testa spalle che però non è mai stata violata, quindi la figura non è mai stata completata, è comunque sicuramente una linea di tendenza importante, se tracciamo la parallela a questa linea di tendenza otteniamo il canale che è un flag, quindi all'interno del canale crescente abbiamo un canale orizzontale che è risultato di essere una figura di continuazione perché c'è stata la rottura del lato alto, quindi classico flag di continuazione, il target implicato dalla presenza del flag è dato dalla proiezione dell'ampiezza della figura dal punto di rottura, quindi siamo arrivati molto vicini all'obiettivo che è posizionato intorno all'area 1,80, perciò tra 1,80 e 1,87 e 1,88 probabilmente vale la pena di iniziare a ridurre l'esposizione sul titolo in attesa di capire se ci sarà la forza poi per superare questa area di resistenza. Infine andiamo a dare un'occhiata a Enel che è un titolo che nel recente passato ha sofferto abbastanza, in questo caso abbiamo la possibilità di tracciare una linea di tendenza, la parallela a questa trendline fatta passare da questo minimo ci da la base del canale, la base del canale è stata toccata in un paio d'occasioni, nella seduta del 7 marzo i prezzi erano scesi al di sotto, poi sono rimbalzati in chiusura fino a quasi ritoccare la linea del canale, nella seduta successiva sono rientrate abbondantemente al di sopra, quindi questa situazione che ha messo in crisi la tenuta del canale ma di fatto non lo ha negato, quando siamo in presenza di un canale di questo tipo può essere molto utile oltre che a utilizzarlo come unità di misura quando si vanno a calcolare gli obiettivi nel momento che c'è la rottura, può essere molto utile anche andare a calcolare il baricentro ossia la linea mediana del canale stesso, quella che passa sul 50% dell'ampiezza del canale e molto spesso questa linea si dimostra essere un'area di supporto o un'area di resistenza significativa, diciamo che fino a che i prezzi si mantengono al di sopra della linea mediana c'è una buona possibilità di andare a prendere la linea superiore del canale, se invece i prezzi scendono al di sotto della linea mediana c'è il rischio di andare a vedere la base del canale, vedete come nelle ultime settimane questa linea si è dimostrata effettivamente molto rilevante. Vediamo se ci sono linee di più ampio respiro che possono darci delle indicazioni, qui c'era una linea rialzista che partiva da questi minimi di fine 2018 che è stata violata nel mese di febbraio, è risultata essere per un certo periodo di tempo il centro dell'azione dei prezzi, vedete quanto i prezzi hanno oscillato attorno a questa linea prima di decidere di abbandonare definitivamente ed è poi stata toccata dal basso, quindi il classico return move l'11 aprile quando le quotazioni sulla linea hanno disegnato anche una candela di tipo shooting star, quindi hanno avvicinato la linea senza andarla a prendere precisamente e poi da quella si sono nuovamente allontanati, pertanto se le quotazioni dovesse tornare a vedere questa linea in area 6,50 che più o meno coincide con il lato alto del canale ci sarebbe il rischio di assistere a una nuova fase di ripiegamento, se invece dovesse riuscire a superarla sarebbe sicuramente una indicazione di forza che potrebbe anticipare se i prezzi riusciranno a salire anche al di sopra di area 6,55 che è il minimo del primo di ottobre, vedete anche questo è un livello orizzontale molto rilevante, potrebbe anticipare l'inizio di una correzione di tutto il ribasso precedente, un modo per calcolare un target oltre ai soliti ritracciamenti fibonacci è quello di prendere l'ampiezza del canale, proiettarla dal punto di rottura, ipotizziamo che sia intorno a quest'area, diciamo intorno a 6,50 il target si potrebbe considerare quindi in area 7,70 euro, fino a che non saremo di sopra di questa forte area di resistenza su Enel c'è il rischio che eventuali movimenti a rialzo che sono possibili fino a che ci manteremo di sopra di area 5,80 e 5,85 e risultino poi terminati in area 6,50. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento molto importante, ovviamente come sempre se ci sono ulteriori dubbi e domande potete scriverle sia nei commenti al video che sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di FTA Online dove in ogni caso pubblicherò il video, vi ringrazio l'attenzione e vi invito se siete curiosi di avere maggiore informazione per quel che riguarda il comparto della sicurezza informatica di iscrivervi al nostro canale Patreon e seguirci anche su quello. Buona giornata e appuntamento a domani.